Un 500 sulla linea storica Milano-Bologna a Mileniano Molto strano, molto strano Molto strano e molto raro Credo che ci sarà il solito problema di qualche guasto su una veloce Perché se passa di qua o è vuoto o non lo so Ma è una cosa molto strana Peccato che il sole ce l'ho dalla parte opposta Però sai, sapete che qui in stazione bisogna stare attenti Io ho appena visto da lontano Musa Rosso L'altro qui sta parlando qualcosa di non consueto Grazie televisione e salve a tutti